cari amici e cari amiche di ciclo web e della vuelta in spagna il famoso meteorite di cui parlavamo nei giorni scorsi e cioè l'intoppo l'imprevisto che doveva piovere addosso a primo sroglic per impedirgli di vincere la vuelta oggi gli è caduto addosso questo meteorite lui l'ha schivato per un pelo però diciamo che non l'ha preso il meteorite gli è caduto accanto però ci saranno delle conseguenze e tutto questo è successo in una tappa che doveva essere interlocutoria tappa vinta da come al solito dal grandissimo dal come al solito grandissimo philippe gilbert è una tappa in cui tutti pensavano che tutti pensavamo a guardare il percorso che ci sarebbe stato uno contest andamento classico fuga poi ripresa nel finale è volata frazione proprio di passaggio di transizione tra il riposo di ieri e le montagne di domani invece nulla di tutto questo è stata una battaglia clamorosa e non è tanto il risultato della tappa e cioè il fatto che nairo quintana sia risalito fino al secondo posto della classifica rosicchiando cinque minuti e mezzo praticamente agli avversari di classifica e con quintana sono risaliti anche kelderman e knox james knox che tra l'altro notavo è un sosia di simon guerrano spero più sottile più affilato meno comodino rispetto all'australiano non è tanto il fatto che questi corritori si siano avvantaggiati siano risaliti in classifica a partita di quintana è il modo in cui questa tappa è stata condotta a marcare insomma un passaggio importante di questa volta perché io onestamente sono diverse ore che scavo nella mia memoria per ricordarmi altre frazioni del genere altre tappe simili pronti via tutti pancia a terra media altissime per 220 km ci hanno messo 4 ore e 20 per fare 220 km impressionante e nessuno si è risparmiato nessuno ha potuto tirare indietro la gamba chi si è trovato tagliato fuori ha perso poi mezz'ora un quarto d'ora 20 minuti penso per esempio a nicolai ed è che vede sfumare il sogno di una top ten o herman per steiner che era decimo e quindi oggi tutti hanno speso tantissimo e questo significa che domani qualcuno finirà la benzina molto presto e se domani qualche uomo di classifica magari che non abbia molto da perdere non lo so un maica della situazione dovesse impazzire dovesse decidere di andare all'assalto già sulla prima delle quattro salite sul puerto de navacerrada aspettiamoci di vedere veramente un'altra giornata epica o una giornata compiutamente epica perché poi oggi c'è stata battaglia è stata veramente avvincente questa tappa ricca di pathos forse la più bella di questa volta però diciamo che è stata una battaglia condotta anche per procura cioè con l'aiuto dei gregari delle squadre tra chi tirava davanti chi tirava di dietro e invece domani c'è proprio la possibilità di vedere un faccia a faccia un testa a testa tra i big uno contro l'altro sin da molto presto e beh contiamo le ore contiamo i minuti che mancano roglic resta in maglia rossa però lui stesso ha ammesso oggi ho commesso un errore non dovevo trovarmi così nelle retrovie quando la tappa è incominciata quando sono iniziati i primi movimenti che hanno portato poi alla fuga dei quasi 50 uomini poi via via ridottisi a 30 dovevo stare avanti questi sono errori che si pagano ma tu vai a immaginare che al secondo chilometro di parte quintana in fuga non è facile è vero che c'era il vento che ha marcato questa importante differenza tra quello che pensavamo potesse essere quello che è stato ed era atteso il vento si sapeva che ci sarebbe stato questo vento ma già al secondo chilometro al terzo chilometro un po' presto sono partiti e poi hanno tenuto fino alla fine veramente sono ancora senza parole roglic in maglia rossa ancora con 2 e 24 sul rinato quintana solo che oggi quintana da quello che ho visto e da come l'ho visto anche dopo la tappa al traguardo mi dava l'impressione di uno che domani beccherà 10 minuti di ritardo però ci sono gli altri valverde terzo a 2 e 48 sempre lì pogaciar 3 42 lopes 3 59 poi kelderman risale al sesto posto a 5 0 5 maica 7 40 nox sale all'ottavo posto a 8 0 3 agen resiste a 10 e 43 e turns 12 e 21 chiude la top 10 quindi dicevo domani se qualcuno accende la miccia molto presto potremmo vedere qualsiasi cosa alla faccia e in barba tutto quello che abbiamo detto nei giorni scorsi ricordate roglic al 97 per cento vince la volta l'ho detto e resta comunque il mio favorito roglic come il favorito di molti di voi immagino però avevo detto l'altro giorno anche che il ciclismo comunque ci ha abituati a qualsiasi cosa a tutto e oggi abbiamo avuto una plastica rappresentazione di questa di questo concetto oggi la movistar e poi chiudo ha avuto anche un momento in cui lavorava sia davanti che dietro perché davanti c'erano i gregari che tiravano per quintana e dietro a un certo punto su una salitella soler e pedrero si sono messi a fare il ritmo e poi soprattutto soler ha messo a ferro e fuoco il gruppo quello che ne restava il gruppo maglia rossa e l'ha selezionato ulteriormente nell'articolo dicevo che è stata una mossa comunque da provare perché roglic era lì per restare da solo infatti è stato poi isolato e non sai in queste condizioni in queste situazioni non sai se possa avere un attimo di defiance chi guida la classifica bisogna per forza metterlo alla prova bisogna per forza tentare di fare qualcosa e che l'abbia fatto la movistar con valverde significa che forse forse non stanno pensando soltanto alla classifica squadre come dicevamo un po scherzando nei giorni scorsi forse forse avendo ora il secondo il terzo a meno di tre minuti dalla maglia rossa e soprattutto avendo lavorato oggi anche proprio in ottica della tappa di domani questo a mio avviso forse questo significa che non è ancora stata scritta la parola fine su questa volta 2019 lo scopriremo domani ci ritroveremo ci ritroveremo qui a raccogliere col cucchiaino i resti dei dei contendenti che oggi hanno battagliato come se non ci fossero domani ma il domani c'è e lo scopriremo ciao da ciclo web